Come offriamo la bioetica? Eutanasia, custodia dell'ambiente, tra piatti, organo eccetera. Tutta una serie di tematiche, lo comprende chiunque sia vivo nella nostra società, sono di estrema attualità e di estrema urgenza. Il corso direi che è espressione di una delle vocazioni principali del nostro Ateneo, cioè il nostro Ateneo il Regino Apostolo Orum pretende non solo fare recuperazioni importanti, ci mancherebbe ricerche importanti su tante tematiche, ma affrontare anche tematiche attuali, tematiche che incidono nella vita reale non solo per esempio dei sacerdoti, dei religiosi, ma della società in generale. Infatti il corso di perfezionamento è rivolto sia a sacerdoti, seminaristi eccetera, ma anche direi quasi principalmente a operatori sanitari, a insegnanti delle scuole, media, superiore e soprattutto, perché loro sono comunque chiamati a intervenire in queste tematiche, a lezione, in scuola, tante volte il bambino chiede una cosa che ha sentito in televisione il giorno prima, ha sentito commentare ai genitori la clonazione, i trappianti eccetera. Allora noi ci rivolgiamo a queste persone come un servizio, un servizio culturale di divulgazione, in questo caso introduzione alla bioetica, rivolto non solo a sacerdote, ma a tante altre categorie di persone che ne hanno veramente bisogno. La rivista che pubblica la nostra facoltà si intitola Studia Bioetica, però bisogna vedere che è scritto in latino con l'H dopo la T, cioè non vogliamo dire ti devi mettere a studiare bioetica, però possiamo anche prendere spunto da questo titolo per dire effettivamente, non dico che devi studiare bioetica, però la bioetica riguarda la vita, nel senso più letterale della parola, studio dei problemi etici che riguardano la nostra vita, dunque la vita di tutte le persone. E allora io quando posso invito le persone ad almeno affacciarsi a questo mondo appassionante tra l'altro della bioetica, perché veramente tocca la nostra vita, sono un sacerdote, sono un paziente, sono un medico, sono un giornalista, sono un insegnante, ebbene sicuro trovo tra i piedi, se spera anche nella mente, problemi di bioetica. E dunque avere l'occasione come offre questo corso in poco tempo, perché poi si concentra tutto in un anno, con un impegno settimanale per approfondire, almeno per introduzione a questa tematica, mi sembra un'opportunità straordinaria. Dunque studia bioetica.